Ciao e bentornato! Oggi condivido con voi la realizzazione di questa lampada. Prima di lasciarti al video vorrei invitarti a partecipare al contest dei 100 iscritti. Ti lascio in descrizione il link del video. Buona visione! Per questo progetto ho usato un po' di scarto che avevo qui in giro per il laboratorio. Sono partito con unire queste due tavole di faggio che mi serviranno per creare la base della lampada. In descrizione ti lascio il link del blog dove troverai tutte le misure per riprodurre questo progetto e anche gli altri che ho già realizzato. Inizio a marcare i punti della parte superiore. Dopo aver segnato tutti i punti passo a praticare il foro passante con una punta a fostene da 20 mm. Con l'utilizzo del pantografo vado a realizzare la base. Finito di preparare tutti i componenti passo alla finitura. Grazie a tutti! Completo collegando il portalampada, l'interruttore e la presa. Se non l'hai mai fatto ti consiglio di farti aiutare. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Se il video è stato il tuo gradimento fammelo sapere lasciando un like e un commento. Se vuoi aiutarmi nella crescita del canale condividi questo video sui tuoi social e se ancora non l'hai fatto iscriviti. Ci vediamo sabato prossimo con l'estrazione del vincitore del contest e un nuovo progetto. Ciao! 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 Bye!